Buone stelle, da Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. L'oroscopo! Un buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati anche in questo lunedì 16 novembre nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Buon ascolto! Ariete! Inizio settimana accompagnato dalla luna di fuoco e dal battagliero Marte che con la loro energia vi catturano, donandovi una forza speciale per fare quel passo in più atteso da tempo. Cercate di essere più insistenti sui vostri obiettivi. Se qualcosa non va, sappiate trovare la giusta alternativa. Toro! Periodo altalenante per l'ambito sentimentale. La colpa è data dalla quadratura di Venere a Giove che potrebbe inoltre farsi risentire sulla vostra energia e sull'ottimismo che faticherete a coltivare. Più spazio quindi agli affetti e alle amicizie. Sappiate aprire il vostro cuore e soprattutto ascoltate. Gemelli! Si aprono oggi due giornate di luna in opposizione con inevitabili ostacoli sul vostro percorso. Importante è partire con il piede giusto e la mente concentrata su un piano per aggirare gli imprevisti. Mettete da parte dubbi e incertezze per esprimere affetto e ottimismo alle persone a voi vicine. Cancro! Piccole ostilità da parte delle stelle aprono questa settimana. Non dateci però troppo peso. Cercate invece di impegnarvi al massimo e dirigere tutte le energie sullo sviluppo dei vostri progetti. Per costruire basi concrete e riuscire così ad affrontare anche gli imprevisti con il giusto spirito. Leone! Una luce particolare vi caratterizza in questo lunedì. Produttivi e ambiziosi iniziate subito a programmare i vostri impegni e costruire le aspettative per i prossimi giorni. Se dovessero sopraggiungere situazioni impreviste ascoltate il vostro intuito e la luna amica che saprà consigliarvi al meglio. Vergine! La bella Venere guida i vostri passi, infondendovi una bella fiducia. Sapete quello che dovete fare. Dovete solo organizzare meglio i vostri tempi e farvi trovare pronti davanti ad ogni situazione. Voi metteteci quel pizzico di passione in ogni cosa facciate. Saprete sempre trovare la soluzione. Bilancia! Venere in congiunzione rimane al vostro fianco anche in questi giorni. Sappiate sfruttare al meglio il suo influsso benefico in ambito sentimentale e affettivo, in particolare in quanto a comunicativa. Se qualcosa vi disturba usate il potere delle emozioni per non abbassare il volume dell'umore. Scorpione! La luna vi spinge ad affrontare la settimana con la giusta carica di idee e iniziative, forse per reagire al meglio all'attuale presente. Una serie di opportunità si preparano a bussare alla vostra porta. Fatevi trovare pronti ad afferrare quella più giusta per voi, senza però affrettare troppo le decisioni. Sagittario! La splendida luna in congiunzione vi dona oggi una bella carica di ottimismo, come a contrastare i vostri pensieri negativi. La bella Venere vi invita a porre le vostre speranze sul futuro e ad agire anche se a piccoli passi. Non continuate a chiedervi se tutto funzionerà, credete di più nelle vostre iniziative. Capricorno! Se Venere tenta di aprirvi le porte di buone occasioni, Giove al contrario vi porta a compiere le mosse sbagliate, dirigendovi in senso opposto. Tocca a voi a questo punto prendere in mano le redini del gioco. Cercate di accettare i vostri limiti, ma allo stesso tempo osservate bene cosa potete migliorare. Acquario! Lasciate spazio alla luna oggi, che guida la vostra immaginazione e vi convince a fidarvi di quelle cose in cui è bello dirigere la propria speranza. Non perdete di vista il programma, i vostri obiettivi devono rimanere in cima alla lista. Venere inoltre rende la coppia più salda che mai, la complicità affettiva è alle stelle. Pesci! A dominare il vostro lunedì è ancora la luna, portatrice di forti emozioni. Essenziale non esagerare, potreste altrimenti compromettere un equilibrio. Ogni rapporto, dall'amore all'amicizia, nella sua costruzione o nella sua continuità, ha bisogno di tempo. Cercate di non affrettare le cose. E' tutto per il nostro oroscopo di questo inizio settimana, vi auguriamo buona fortuna! E' tutto cero!